Sarà operativo entro fine mese il centro multifunzionale a Montegallo, comune dell'Ascolano, che la protezione civile dell'Emilia Romagna ha letteralmente adottato dopo il terribile sisma del 24 agosto. L'infrastruttura comprenderà il municipio, la scuola, il presidio medico, una farmacia, una chiesa e la sede del Corpo Forestale dello Stato. Nelle scorse ore il presidente Bonacini si è recato sul posto per fare il punto della situazione. Qui abbiamo detto al sindaco da subito, perché siamo arrivati subito, che siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire alla ricostruzione, in particolare a quella pubblica dove viene chiesto, tant'è che stiamo lavorando velocemente perché è un centro polifunzionale da un lato e la scuola dall'altro possono trovare una dimensione nella quale, ad esempio, i moduli con riscaldamento ci possono essere fin da subito. Abbiamo censito da tantissimi comuni dell'Emilia Romagna a disponibilità di inviare, e già sta succedendo, tecnici per fare il censimento dell'agibilità di tutte le strutture, quindi anche quelle private. Quindi lo facciamo qui ma abbiamo dato la disponibilità, e succederà così, di inviare i tecnici dei vari comuni ovunque laddove serva. E prosegue anche il lavoro del commissario Errani che ai nostri microfoni ha indicato i prossimi passaggi. Il lavoro sta procedendo, abbiamo fatto il punto col sindaco, qui c'è la regione Emilia Romagna. La prima fase è la chiusura dei campi tenda, questo non per una decisione astratta, ma perché le condizioni meteorologiche in relazione alla qualità della vita che dobbiamo assicurare ai cittadini non consentono di tenere per lungo tempo i campi tenda.